La eruzione nella vita di 366.000 italiani ogni anno, il cancro. Tra i 20 e 39 anni sono 14.000 i giovani adulti che combattono contro il male senza smettere di fare progetti sul futuro. Sì, perché se è vero che il tumore continua a uccidere al ritmo di 470 persone ogni giorno, è altrettanto vero che l'Italia, il paese in Europa dove si sopravvive di più e dove i malati che guariscono si sostengono a vicenda. Le persone che ci incontrano, che sanno della nostra malattia, ci raccontano tutte le persone che purtroppo sono decedute. Raccontateci quelli che sopravvivono, perché ce ne sono tantissimi oggi, perché non portare questa esperienza, questa voglia di vivere, di dire che si può vincere. Il fatto di aver vissuto sulla nostra pelle la malattia fa la differenza. La passione, l'intensità dell'impegno continuato negli anni dovrebbe portare e porta dei grandi risultati. Disomogenità delle cure delle strutture tra nord e sud, liste di attesa inaccettabili per una patologia dove la lotta contro il tempo è d'obbligo, mancato decollo delle iniziative di prevenzione, carenza dei servizi di assistenza domiciliare presa in carico dei malati. Questi sono le ombre contenute nel sesto rapporto sulla condizione dei malati oncologici, troppo spesso chiamati a far fronte da soli, anche ai costi altissimi della malattia. Chi si ammala deve avere la stessa assistenza vicino casa in qualsiasi parte del territorio e purtroppo questo ancora non è così. Una famiglia in media spende più di 40.000 euro all'anno se ha un malato di colonretto al proprio interno, quindi è un trambusto, è un carico economico che molte famiglie peraltro non riescono a sobbarcarsi e quindi questo provoca ingiustizia e difficoltà. Qualcosa si muove anche nel nostro paese. È l'impegno della società civile che si allea con la scienza e sempre più offre risposte che la politica non riesce a dare.